Sono Mirella Loisio. Viera. Guazzalocco Silvana. Il nome di battaglia è Laila. Il montagno è Mirella. Il nome di battaglia è Valkyria. Rossella. Non si poteva esprimere le proprie opinioni. Il babbo era un antifascista. Mio papà non aveva mai preso la tessera del fascio. Ti puniscono, la punizione minima era l'olio di vicino. Magari andare in valle, qualche volta anche con delle armi. Dovevano apparire delle ragazze così che andavano girando. Abbiamo avuto 70.000 donne nel gruppo di difesa della donna. Le donne si erano già organizzate spontaneamente. Che mi sento di mare. Che mi sento di mare.